la puntata è? 18 va bene ci siamo? ci siamo buonasera a tutti diciottesima puntata di io resto a casa e parlo di pallavolo un altro ospite straordinario campione del mondo con la Polonia attuale allenatore della Sir Perugia Rocco presentacelo tu perché sei te che gli farà la prima domanda buonasera io intanto ringrazio Vital perché ringrazio Roberto Santilli che ci ha dato una mano per contattare Vital ed abbiamo trovato una persona disponibile veramente la dobbiamo ringraziare partirei subito con la prima domanda quindi la prima domanda è qual è la tua filosofia quali sono le tue idee le tue convinzioni che guidano la tua attività di coach ma come sempre non mi piace di cominciare con la prima domanda io ho pensato cosa io ho fatto gli ultimi giorni io ho visto l'episode con Bernardo io ho visto l'episode con coach Corelli e dopo io ho pensato un po' è una cosa che è per capirmi è importante capire la mia situazione la mia vita gli ultimi venti anni venticinque anni in pallavolo perché è chiaramente differente perché Coach Corelli ha parlato di messaggero scusa ma io non so niente di messaggero Bernardo ha parlato di venti anni squadre nazionali non ho un'istoria e per me io sono un po' differente la mia la mia storia internazionale è cominciata solo nel 2012 e nel 2012 è la prima volta che io ho fatto qualcosa con la squadra nazionale e secondo me era più o meno la prima volta che io ho visto il pallavolo internazionale perché vengo da Belgio ho giocato non lo so venti anni in Belgio ho giocato qualche volta contro gli squadri italiani sempre più o meno sempre contro Treviso è tutto e dopo il mio contatto con il pallavolo italiano è limitato è veramente limitato è un piccolo storia non lo so se Andrea Stasi senti ma la prima in 2007 o 2006 come un attore io ero in Friedrichshaven e ho fatto un contatto con Andrea Stasi io non ho avuto alcuna nessuna idea chi è Andrea Andrea Stasi vuol dire la mia storia dell'ultimo venti anni è solo otto anni e l'esperienza per me io sono un po' nervoso per fare la comparazione con persone con Chiarelli e Bernardi con una storia più grande e con me otto nove anni ma ha un avventaggio perché l'idea di pallavolo che ho fatto è senza l'influenza del mondo internazionale e sono delle idee che ho fatto solo a Belgio ho avuto qualche allenatore un argentino pisani non lo so una persona connessima lui era interessante e dopo io ho lavorato dieci anni con Christianson che è un buon allenatore ma vuol dire che la la mia conoscenza venne molto da lui e solo qualche principio fondamentale ho cambiato ma la mia conoscenza di pallavolo è limitata da Belgio e di Christianson che è cosa che è interessante per per capire che oggi voi voi pensate qualche volta che se io sono un po' speciale secondo me io sono normale perché io ho fatto sempre lo stesso vuol dire che per venire sulle mie idee e ai principi due cose solo due cose e la prima è più importante io ho avuto nel primo giorno come allenatore io ho preso un un psicologico psicologico una persona che è e ho lavorato sempre con lui e noi abbiamo l'idea di scrivere un libro ma non lo so cosa cosa io devo scrivere ma il l'inizio è l'idea è facile non è facile la semplicità non è facile qualcosa così è per me l'idea più importante è fare di cose più facili secondo me la polavola è veramente difficile oggi noi abbiamo così tanti di informazioni per me il più importante è fare le cose più facili è una cosa e il secondo principio è di i giocatori sono più intelligenti di altri di allenatori pensano qualche volta allora l'influenza dei giocatori sul me è grande sono le due cose secondo me più importanti per cominciare ok chiarissimo la seconda la seconda domanda è un po' divisa in due parti la prima cosa che ti chiediamo è che cosa è importante per te secondo te per vincere qual è la cosa più importante per vincere cosa ti dicono diciamo i dati che hai studiato le esperienze che hai fatto e come questo influisce sui tuoi allenamenti cioè come questa cosa influisce sui tuoi allenamenti dopo ti faccio la seconda parte prima ti lascio qui sì io ho visto qualche volta dei studi e ricerche in Stati Uniti cosa è il più importante per vincere e è sempre lo stesso il più importante per vincere il proprio attacco l'attacco della mia squadra è il più importante per vincere è sempre e è corretto io sono d'accordo è impossibile cambiare ma il più interessante per me è cosa è il secondo elemento che è importante per vincere il secondo elemento più importante per vincere è l'attacco dell'altra squadra vuol dire che battuta muro e difesa è lo stesso come l'altra squadra non fa i punti sono con me importanti allora io ho visto che anche per esempio Cristian io non voglio dire nessuna parola negativa ma noi abbiamo lavorato molto sull'attacco sempre l'attacco l'attacco molto e ho pensato che i miei giocatori che sono con me con gli altri dannatori loro lavorano sull'attacco con me noi facciamo muro di difesa allora ho cominciato di lavorare molto sul muro di difesa e oggi ho un po' il nome di parlare sempre di muro di difesa non è vero ma io ho visto che mi piace la situazione con Lyon in Perugia non mi piace la situazione con Lyon è che io lavoro sempre con lui estate e inverno mi piace più di avere un giocatore che mezzo anno lavora con un altro allenatore dopo io parlo con lui per dare di altre informazioni io non credo che lo stesso allenatore è capace di sempre cambiare un giocatore di migliorare un giocatore è interessante di avere altra influenza è una spiegazione perché io ho dimandato 4-5 anni fa Roberto Santilli per venire alla squadra nazionale tedesca e mi ricordo che Roberto mi ha fatto la richiesta cosa devo fare io ho detto tu prendi un siede e vedi l'alimento per dirmi cosa è possibile di cambiare perché per me io sono limitato e dopo 6-3 mesi 6 mesi è difficile per me di cambiare io ho bisogno di altre persone di dirmi fa' attenzione è possibile fare così è possibile fare così vuol dire che è più o meno il primo cosa la domanda la seconda parte la seconda parte della domanda è questa alla prima hai risposto perfettamente la seconda parte è questa analizzando il gioco delle tue squadre allora ho spiegato perché muro difesa per me è importante perché secondo me non è io so che l'attacco è più importante ma è qualcosa che è un po' dimenticato è una cosa e per lavorare sull'alimento io non è interessante io non faccio niente speciale sull'alimento di difesa non mi piace di fare di alimento di difesa io faccio solo quando noi abbiamo fatto due o tre giorni duri e io non so cosa devo fare io faccio un alimento di difesa ma non mi piace ma solo l'idea l'idea dare la squadra l'idea è muro difesa muro difesa e anche per più tardi parlare sull'esercizio o l'alimento e per fare il punto come è possibile fare dei punti è possibile di avere più attenzione sull'defesa ma esercizio di difesa non faccio molto vuol dire che sull'esercizio grande esercizio con sei contro sei loro sono più o meno più o meno come tutti i allenatori è possibile che l'attenzione sia un po' più sul muro difesa ok la seconda parte della domanda la seconda parte della domanda è questa mi hanno mi hanno suggerito di fartela non viene da me chi ha la tua squadra dice le squadre di Aynen partono così così poi lui ci lavora e migliorano tantissimo sul cambio palla e sulla fase break cioè migliorano la loro performance allora io chiedo qual è il segreto per migliorare questa performance sia in fase cambio palla che in fase break non lo so è interessante io ho avuto qualche volta non è così che oggi ancora più difficile è la testa dei giocatori oggi quando io entro con la squadra la squadra sa direttamente che muro di difesa sono importanti è veramente interessante di vedere perché per me anche ho un secondo problema come ho detto all'inizio il problema il problema di non sapere come altri allenatori fanno un elemento è l'avventaggio che io faccio più o meno l'ultimo dieci non lo stesso ho cambiato ma non molto e per i giocatori vuol dire è muro di difesa per me è normale allora non ho un secreto secondo me io faccio più o meno lo stesso e anche è difficile di cambiare io so che i miei squadri fanno sempre meglio e meglio in una stagione allora qualcosa funziona ma cosa è è più difficile di dire è le mie parole sono gli esercizi sono altre cose perché è chiaro per esempio dopo tutte le partite io parlo non troppo lungo ma parlo cinque minuti con la squadra e io parlo sempre non solo dall'attacco chi ha fatto venticinque punti non mi interessa ma chi ha fatto bene in muro chi ha fatto bene in difesa e se è una persona un po' strano per esempio Podraskanen era qualche volta il meglio in difesa allora dopo la partita cosa passa io parlo sempre di Podraskanen perché lui non è il giocatore più tecnico ma lui è intelligente e lui prende il palla in difesa vuol dire difesa non è sempre tecnicamente ma ha qualcosa di testa allora io voglio cambiare la testa e è possibile ma non è così chiaro che io faccio così e funziona è sempre lo stesso le prime settimane sono difficili come in Perugia all'inizio era difficile di cambiare qualcosa e dopo comincia a funzionare e è peccato che la stagione era finita troppo veloce questo è un peccato per tutti ok ok grazie Vital ma se una persona ha una richiesta o vuol fare un'altra richiesta non è un problema per me perché qualche volta è più interessante di dire un po' più io non so io non so cosa è necessario oggi ok abbiamo anche Roberto se vuole intervenire quindi ci dà una mano passiamo diciamo alla terza domanda no cosa tu pensi sia importante per un giocatore per migliorare e poi soprattutto qual è il tuo rapporto con l'errore e come gestisci e correggi l'errore con i giocatori io comincio comincio con il rapporto con l'errore sì in 2006 sono cominciato come un attore in Belgio e ero secondo un attore della squadra Noriko Masek ma in stesso momento nel stesso momento ho lavorato con la squadra della Liga B seconda divisione una squadra giovane di 17 18 19 anni e ho trovato che il pallavolo è troppo difficile allora ho fatto un sistema che è errore accettabile e non accettabile e ho fatto un sistema per spiegarmi ai giocatori io so che il pallavolo è troppo difficile è sempre errore 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 è interessante di vedere gli errori che sono possibili e che non sono possibili è possibile dare qualche esempio per me una battuta in rete è un errore perché una battuta in rete non dà la possibilità all'altra squadra di giudicare la palla e è troppo facile di dare il punto ma una battuta fuori la linea campo del fondo del campo non è un grande errore se è fuori 20 cm 30 cm per me non è un errore perché non è così facile di fare un attacco a 8,5 m 9 m e 10 cm di perfezione non è facile non è un errore allora sono cominciato all'inizio di fare un'errore possibile e non possibile per esempio un attacco un attacco con un muro fare un errore non è un problema perché se un attacco una persona che fa l'attacco ha un muro è per fare il punto e non è per per dare un pallonetto o attacco o mezzo mezzo forza è per fare un punto è possibile fare un errore ma se una persona ha una posizione di tre muri con tre muri non mi piace troppo di fare un errore perché la situazione è qualche volta con Belfredo Leone è possibile di dire al giocatore che per te è possibile ma per molti giocatori no non è il momento di fare un punto ma di fare trovare una soluzione e di giocare un'altra volta e così io ho lavorato ho cominciato con i giovani di 17 anni dopo ho fatto lo stesso con la squadra di Noriko Maseki dopo ho fatto lo stesso in Germania dopo ho fatto lo stesso in Polonia e ho sempre pensato che il sistema di errore accettabile è troppo facile perché non è qualcosa speciale non è difficile è facile di capire per tutti i giocatori ma funziona e io ricomincio come ho detto all'inizio la sfida per me è di fare cose più facili e il sistema di accettabili e non accettabili errori ha qualcosa per fare di più facile sono 25 punti quando ho fatto qualche volta ho fatto un test con i giocatori se loro sanno il numero è sempre alto non è perfetto ma è alto è facile per i giocatori di capire allora sul livello di cosa rapporto con l'errore è una cosa che di errore sono possibili ma fa la differenza è importante per migliorare con i giocatori mi piace lavorare sul livello tecnico la mattina è interessante la mattina mi piace il più perché è lavorare mi piace io non faccio mai un elemento con 12 13 14 giocatori la mattina mi piace più di lavorare con 3 4 5 giocatori e dove è possibile parlare e parlare della tecnica allora la tecnica mi interessa molto l'elemento di pomeriggio dove faccio molto di 6 contro 6 è più difficile perché per vedere tutti 14 giocatori è troppo difficile per me allora la mattina mi piace molto lavora molto sul livello tecnico io ho sentito che è in realtà interessante per me che io ho sentito la mattina gli episodi con Bernardo e Bernardo ha detto che lui ha un sistema di lunedì due volte martedì due volte mercoledì una volta due volte giovedì una volta venerdì io faccio lo stesso io faccio lo stesso la mattina senza saltare non è vero per centrale è un po' centrale ma mai maximale è molto sul livello di piedi mani ma senza fare troppo di lavoro fisico la correzione degli errori allora i giocatori hanno sono due livelli per corrigere uno è nell'elemento di 6 contro 6 nel pomeriggio io uso normalmente il sistema di accettabile e non accettabile perché è più facile la mattina è il momento di fare la correzione sul tecnico ma se un giocatore comincia 6 contro 6 secondo me è difficile parlare di tecnico dopo l'elemento è possibile ma in l'elemento io non parlo troppo è qualcosa io ho il nome di parlare molto ma non mi piace parlare molto l'elemento per me l'elemento deve essere fluent è un ritmo senza smettere senza parlare troppo di allenatore allora mi piace più parlare la mattina molto con i giocatori e dopo il pomeriggio è per lavorare ok eccomi qua parliamo della seduta d'allenamento come come la costruisce una seduta d'allenamento quali sono i suoi principi e poi una domanda che abbiamo fatto a tutti gli allenatori importanti come te è quanto alleni la battuta e la ricezione perché tutti ci dicono che è importante l'attacco importante buona difesa poi allenano sempre battuta ricezione quindi quanto allena battuta ricezione la prima è qualcosa interessante secondo me oggi il pallavolo è meno o meno qualcosa dove il fisico è il più importante secondo me la concentrazione è il più importante la squadra deve essere capace di stare in gioco e fare di cose e molti riserci dicono che normalmente per le persone non è possibile stare la concentrazione è solo maximale 40-50 minuti io so che è difficile parlare a volo ma non mi piace di fare gli allenatori troppo lunghi devo essere onesto all'inizio in Perugia ho avuto qualche problemi con l'organizzazione che mi ha detto che è necessario fare due ore e mezzo e per me due ore e mezza qualche volta è troppo lungo vuol dire un elemento per me è io non voglio come dire to load caricare caricare troppo sul giocatore all'inizio allora io sono famoso per cominciare sempre con un gioco pazzo un altro nome è gioco creativo ma io so che è pazzo vuol dire noi facciamo qualcosa con una palla un siede rete non lo so solo non mi piace correre sul terreno perché è un è qualcosa che è una resta come giocatore io ho fatto 25 anni di riscaldamento 25 anni lo stesso io ho detto io ho detto con me non è possibile il riscaldamento è ogni giorno differente allora ho cominciato con il giochi il giochi un po' pazzi in Polonia ho avuto paura quando io sono cominciato in Polonia ho avuto paura di cominciare con i giochi pazzi non ho fatto le prime due settimane e dopo due settimane io ho fatto una volta e Kubiak è venuto direttamente a me e ha detto Vital ogni giorno noi cominciamo con un gioco come oggi allora anche in Polonia ho fatto e dopo in Perugia ho fatto lo stesso io ho detto molte volte ai giocatori per me non è necessario se un giocatore vuole fare il riscaldamento classico non è un problema prendere l'altra l'altra del terreno e fare il riscaldamento classico non è un problema ma io ho visto che molti giocatori cominciano con un sorridere un sorriso e per me è importante vuol dire che la prima parte non è per caricare la testa è il primo io faccio sempre un po' un gioco pazzo dopo i giocatori vogliono sempre parlare un po' il nome per parlare è il stretching ma molti giocatori non fanno molto stretching è solo essere sul sul pavimento e parlare un po' e dopo io ho fatto sempre un sistema di giocare due contro due e il due contro due è qualcosa che è un punizione se i miei giocatori non possono fare è un segnale forte perché normalmente non passa ogni giorno noi giochiamo un gioco due contro due che è ogni giorno differente abbiamo un sistema di un ranking dove il vincitore del giorno ha un punto e dopo due settimane tre settimane noi cambiamo le squadre dove il migliore e il più debole giocano insieme vuol dire che tutte le due tre settimane le squadre sono differenti è interessante perché non sono sempre gli amici che giocano insieme ma anche le persone dove la reazione non è perfetta loro devono giocare insieme è il riscaldamento è possibile dire che non è il riscaldamento il più scientifico io so io ho sempre avuto un po' paura di avere dei problemi fisici ma non ho mai avuto non ho mai avuto dei problemi con un gioco non ho mai avuto dei problemi dei giocatori che hanno un problema fisico dopo il riscaldamento che non è il riscaldamento e dopo mi piace molto di giocare sei contro sei senza battuta e senza punti noi cominciamo sempre un po' sei contro sei l'attacco è mezzo mezzo forza forza e giocare sei contro sei con qualche elementi la copertura o pallonetto pallonetto sinistra destra piccole cose dopo mi piace fare un po' di tecnico per esempio il muro il muro dopo facciamo il classico un po' l'attacco e dopo è sei contro sei io faccio sempre solo un esercizio grande dove non uso mai la sei di base la sei di tutelare per me l'alimento è per i 13 14 giocatori loro prendono sempre tutti posizioni e è qualcosa che ho cambiato negli ultimi due anni tutti ogni 15 minuti in un esercizio di sei contro sei io smetto per fare un parte di battute in recezione vuol dire noi facciamo sei contro sei 15 minuti dopo 10 15 minuti battute in recezione mi piace molto con il speed gun per vedere la velocità dopo sei contro sei dopo battute dopo sei contro sei e dopo abbiamo fatto due ore dieci due ore quindici e quando io vedo che la squadra comincia ad essere stanco mi piace di finire l'alimento è facile non mi piace di allenare troppo lungo ho avuto sempre un paura per avere dei problemi di un problema fisico di un giocatore per me è interessante il scouting ho sempre un scout che lavora durante l'alimento non solo per vedere dopo l'alimento cosa è fatto ma per vedere la quantità dell'alimento per dare un'idea l'esercizio di sei contro sei per me è possibile fare meno di duecenti attacchi l'esercizio è facile entro duecento e trecento l'esercizio è normale trecento a quattrocento attacchi l'esercizio è duro dopo quattrocento attacchi noi abbiamo problemi fisici allora è un po' meno l'alimento come io faccio ok grazie Vittà prima di passare alla prossima domanda ti voglio girare una domanda che ci fa un allenatore sulla chat dove dice che in un'intervista hai detto che non credo tutti i giornalisti no è un'intervista quella su Coach Factor dove hai detto che insomma preferivi lavorare sui punti forti ecco voleva sapere se questa cosa la ritieni opportuna anche con il settore giovanile secondo me era Coach che ha parlato del principio di sandwich vuol dire che è un di dire sempre qualcosa positivo dopo il critico dopo un'altra cosa positiva un'altra ricerca ha dato che per bilanciare una cosa negativa è necessario dire tre cose positivi per dare un un sentimento positivo ai giocatori è necessario di fare sette a uno sette cose positive e solo uno elemento negativo e è interessante di si qualcosa negativo non vuol dire se un giocatore ha un punto debole io parlo del punto debole ma non troppo perché io so che sulla testa lavora troppo e lui è negativo e non voglio io voglio sempre un giocatore che è positivo allora è sempre cercare la bilanzia di ok bene 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 e dopo parlare un po' su cose deboli e lavorare i giocatori non sono stupi è una cosa che ho detto all'inizio secondo me i giocatori sono più intelligenti di allenatori penso no? all'inizio ma cosa vuole dire eh per i giocatori quando io parlo che oggi facciamo qualcosa con te e lui sa che è un punto debole da lui lui non non è non è contento allora io lavoro sempre solo un po' non troppo sul punto deboli e secondo me funziona bene ma mi piace molto lavorare sul punto forte o sul punto dove i giocatori vuol lavorare ma non io io non prendo la decisione di lavorare sul punto deboli posso intervenire? sì sì certo come conosco un po' Vital il suo modo di essere creativo io volevo solo che magari lui facesse qualche riferimento al fatto che per lui lui in questo secondo me è una delle sue chiavi importanti che riesce a ribaltare le situazioni dando molta responsabilità ai giocatori che poi identificano quello in cui vogliono lavorare e allora anche gli aspetti negativi riesce a trasformarli in questo senso allora Vital se potevi dire diciamo così la tua idea riguardo al fatto che i giocatori sono per te l'elemento responsabile da cui parte l'apprendimento sì cioè è vero perché in Perugia non ho fatto ma normalmente io faccio sempre un documento dove un giocatore prende la decisione cosa lui vuol lavorare cosa lui vuol cambiare cosa lui trova il più interessante il più importante non io faccio la decisione il giocatore io ho avuto una volta un pallaggiatore Tom Schales è un belgio e secondo me lui non è forte in muro ma lui mi ha detto no non mi interessa io voglio lavorare sul pallaggiatore essere un meglio pallaggiatore allora noi abbiamo lavorato molto sul pallaggiatore per me il giocatore prende la decisione alla fine io devo prendere la decisione chi gioca perché una persona gioca ma mi piace che il giocatore prenda la decisione vuol dire la mattina la mattina molte volte io parlo con il giocatore cosa da fare oggi cosa facciamo muro un po' di muro non muro difesa recezione e all'inizio i primi mesi non è facile è necessario che io parlo un po' con i giocatori ma Roberto irà con me in Germania dopo due o tre anni vuol dire i giocatori sanno molto da me e loro prendono molte decisioni e mi piace molto ok ok per andare avanti con il discorso che stavamo stavamo parlando dell'elemento del 6 contro 6 ecco volevamo un attimo capire un po' meglio se utilizzi per esempio titolare riserve il punteggio se utilizzi una seconda una terza palla e anche gli eventuali obiettivi che metti nel lavoro quello diciamo che hai definito quello grande cioè il grande esercizio all'inizio io non ho fatto mai titolare contro riserve mi ricordo che avanti la campionata del mondo con Roberto Santilli in 2014 la squadra non ha mai lavorato insieme titolare contro riserve abbiamo giocato la partita contro Brasilia senza senza fatto oggi ho cambiato un po' molte volte l'ultimo elemento io faccio sempre il 6 che cominciamo sono per due elementi il più importante è per preparare la testa ai giocatori io non voglio sorprendere un giocatore e dire oggi tu gioca tu giochi ma il giorno il giorno avanti lui sa ok domani io gioco allora per la squadra non è mai una sorpresa chi comincia per altre persone è possibile ma per la squadra secondo me è importante l'ultimo elemento avanti la partita è un elemento non così duro è possibile fare 6 contro 6 titolare contro riserve tutti gli altri elementi sono sempre normalmente io non faccio mai il 6 sul terreno sono i giocatori che prendono posizione e noi cominciamo qualche volta se io trovo necessario che un palagiatore lavori con l'opposto o un'altra cosa io dico in avanti oggi le due persone per esempio campagrosere palagiatore opposto sono sempre insieme è qualcosa ma solo per due persone o per la recezione un libro e un lanza e colaci oggi sempre insieme il libro è un posizione 4 sempre insieme è possibile ma non è io non faccio mai il 6 titolare la settimana completa sul grande esercizio io trovo che il ritmo è importante io ho sentito che il cacchi rally comincia sempre con la battuta ma per me manca qualche volta un po' il ritmo io lavoro sempre con più di due tre quattro cinque palle qualche volta del cinque palle sono due battute ma un ritmo alto vuol dire una persona comincia con la battuta dopo una seconda palla dopo un'altra battuta da una persona che era fuori dopo quattro palle cinque palle facciamo cinque palle in trenti secondi dopo dieci secondi fare niente ma mi piace un imitare sempre un rally lungo non lo so non lo so è qualcosa interessante non lo so un rally è così quarantacinque secondi trentacinque secondi mi piace di lavorare trenti secondi consecutivi e dopo dieci secondi di break una cosa anche sul seconda terza quattro palla mi piace essere un po' creativo per dare un esempio la seconda palla è giocata con il piede sinistra è qualcosa veramente interessante per vedere se un giocatore deve giocare la prima palla con il piede sinistra perché la palla va dovunque la palla fa tutto è difficile per un giocatore di pallavola giocare il piede sinistra la palla sinistra destra è interessante per me sempre trovare una cosa che è un po' differente per i giocatori senza sapere avanti io non il free ball non mi piace molto sempre una palla che ha un'idea sono il secondo terzo e i quattro pallo obiettivi gli obiettivi sono è interessante che il sistema di dare punti io ho sentito che è più o meno lo stesso con il sistema di dare punti è importante per spiegare gli obiettivi e l'alimento e per esempio un esercizio che è secondo me io sono per me esercitore un po' famoso è l'esercizio dove la palla se la palla tocca il pavimento senza un contatto di un giocatore l'esercizio ricomincia è una cosa che dà molto di attenzione sulla difesa vuol dire che non è facile per fare due squadre devono fare 8 punti 7 punti ma ogni volta se una palla è sulla terra la squadra ricomincia da zero o mi piace la squadra ricomincia da zero se loro perdono un palanetto ma altre cose come caccia mi piace anche se è possibile giocare a primo tempo in contraattacco è due punti allora i punti sono lì per dare l'obiettivo lo stesso esercizio è possibile di fare in così differenti sistemi che è possibile di dare un'altra attenzione ad un altro obiettivo anche sull'esercizio e i punti è differente come card io cambio sempre il sistema io voglio sempre che i giocatori hanno qualcosa differente di pensare come il sistema come fare come fare i punti è sempre per i giocatori di pensare oggi è differente oggi è differente e per trovare è sempre per trovare come l'idea dell'esercizio una cosa che viene di Roberto avanti Roberto Santilli ho fatto sempre i punti per esempio ho detto il primo a 8 punti il primo a 7 punti oggi io gioca sempre a 25 punti è qualcosa piccolo oggi io comincio a 17 per andare a 25 e non comincio a 0 per andare a 8 anche se i punti sono difficili io comincio sempre a 22 22 e per fare a 25 ma è interessante di pensare sempre a 25 fino a un partito normale allora io faccio lo stesso ma non mi piace di dare un punto per un'azione mi piace di molte azioni per dare un punto fare un punto deve essere difficile non troppo facile è lavorare lavorare duro mi piace per esempio molto la confirmazione vuol dire una squadra fa 3-4 palle loro vincono dopo è un palla extra per confirmare il punto il palla extra ha un valore di 3-4 punti e dà un po' più di pressione non è lo stesso come la partita ma mi piace ogni palla deve essere un valore un po' più alto mi piace è un po' come i punti sono fatti ok allora la domanda successiva è come un po' lo hai già detto come dai feedback ai tuoi giocatori durante l'allenamento e anche al di fuori dell'allenamento una cosa che è interessante è il contatto informale è corretto in italiano vuol dire se il giocatore deve venire sul mio ufficio nel mio ufficio è qualcosa è qualcosa brutta vuol dire wow è un momento tutti i giocatori sanno wow un giocatore deve andare all'ufficio non mi piace mi piace prendere un giocatore parlare un po' informale come funziona spiegare qualcosa dopo l'allenamento avanti l'allenamento non troppo in all'allenamento in all'allenamento una cosa è una richiesta più più tardi ma prima è non mi piace di fare l'allenamento io preparo sempre l'allenamento ma il secondo autore fa l'allenamento lui ha la palla in mani lui fa il ritmo lui fa l'allenamento io sono sempre fuori e mi piace correre intorno il terreno per parlare ma parlare piccole frasi con il giocatore fa attenzione così fa attenzione così io non voglio interrompere troppo l'allenamento e ho bisogno è perché mi piace avere sempre due l'allenatore un l'allenatore per fare l'allenamento e un l'allenatore per aiutare con il punto palle e altre cose e io faccio niente mi piace molto fare niente vedere e parlare ma parlare corto qualche volta io favo un'interruzione dell'allenamento ma è qualcosa serioso è solo due o tre volte in un mese che io smetto l'allenamento per dire qualcosa mi piace che la mente è sempre fluente molta azione consecutiva e io sempre io non prendo decisioni per bere qualcosa io ho sempre una persona che è il capo di bere qualcosa il drink master il persona che è responsabile e lui prende le interruzioni lui dice alla squadra ok è il momento per bere qualcosa e loro andano per bere qualcosa il ritmo della squadra è fatto l'allenatore il secondo allenatore lui è importante e la squadra può corrigere un po' allora vuol dire che come ho detto il feedback è fuori dall'allenamento è ancora più interessante di trovare i momenti veramente fuori dall'allenamento vuol dire è più interessante un'ora dopo l'allenamento di prendere un giocatore e andare a un caffè prendere un caffè e insieme parlare un po' mi piace più in Polonia ho avuto un sistema come dite il passaggio il passaggiato del notte vuol dire ho preso ho preso sempre il notte vuol dire per me il notte è 8 8 e mezzo 9 ho preso un giocatore per parlare mezz'ora 45 minuti e ho fatto due o tre giocatori tutte notte vuol dire in Polonia il primo dieci giorni io faccio sempre un passaggiato con il giocatore per parlare un po' per dare un feedback di tutti i corsi è interessante è interessante è interessante è qualcosa differente ho visto che due cose oggi è difficile per me perché parlare è con testa a testa un momento dove una persona non dice niente è un momento strano se tu fai un passeggiato è facile dire niente il secondo è interessante andare in notte come di notturno è niente possibile di vedere i giocatori sono più aperti e dicono più tutti i problemi tutte le altre cose sul parlavolo e secondo me è più facile di parlare allora mi piace parlare molto fuori feedback feedback sempre un contro un non mi piace di parlare io ho visto che come ho detto in Stati Uniti loro lavorano con un whiteboard dove tutte le informazioni io parlo sempre un contro con i giocatori noi facciamo un plano un piano ma secondo me non è necessario per sapere che la squadra è completa perché non lo so non mi piace che i giocatori devano troppo che loro hanno dei punti deboli anche nella squadra non mi piace troppo allora il mio sistema è di dare feedback ma anche i contatti con i giocatori mi viene da chiederti questa cosa mi sembra che in questi colloqui diciamo ascolti più che parlare è corretto provo non è facile per me ma una cosa che mi piace mi piace leggere molto è una cosa che è sempre scritto dal leader un leader il più difficile è ascoltare io sono d'accordo è il più difficile ascoltare e capire il giocatore il staff altre persone perché è facile anche io faccio molte volte l'errore di prendere un'esizione troppo veloce perché qualche volta è necessario questo anno io sono arrivato in Perugia e dopo tre o quattro giorni la prima partita è giocato è difficile di aspettare per tutte le formazioni del giocatore io devo prendere la decisione ma normalmente il secondo anno o terzo anno è più facile e sono i giocatori che parlano e non io io prendo per esempio Kubiak ha cambiato il sistema di difesa in Polonia un giorno Kubiak è venuto con me e ha detto non mi piace il tuo sistema di difesa io voglio prendere un'altra posizione di difesa così 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 e ho detto ok facciamo perché no è duro perché all'interno io non sono d'accordo perché ho avuto il mio sistema perché cambiare ma quando i giocatori prendono le decisioni è interessante di vedere perché il sistema che noi abbiamo fatto in Polonia secondo me non le migliori ma funzionato perché era una decisione della squadra allora il feedback voi avete scritto il feedback da io al giocatore il più importante secondo me è il feedback del giocatore che viene a me è qualcosa che è difficile all'inizio io faccio sempre un documento dopo due tre mesi i giocatori possono scrivere tutto che è nella testa e loro non sono d'accordo per cambiare io ho fatto un sistema dove è sempre il sapere il nome di un giocatore è impossibile sapere il nome in documento i giocatori possono scrivere e la prima volta è sempre lo stesso i giocatori non scrivono niente o non scrivono molto è difficile per loro per loro di dare un feedback al natore e è sempre lo stesso quando loro vedono che il feedback dei giocatori ha un valore perché io faccio sempre lo stesso per esempio come ho detto il concetto di fare l'elemento di 15 di 6 contro 6 e dopo battuta e recezione era una richiesta dalla squadra in Perugia in Perugia io ho fatto un po' differente perché la squadra ha fatto un'altra richiesta in Perugia dopo il primo 6 contro 6 senza punti noi abbiamo fatto battute e recepzioni ma in Italia la squadra non avvita noi facciamo fare non una volta ma due o tre volte battute e recepzioni allora abbiamo cambiato il sistema allora il feedback del giocatore a me è il più interessante secondo me chiarissimo ok Vital ecco già hai un po' detto sul discorso sul rapporto che a te piace avere con i giocatori ma ci interessava molto questo discorso dell'autonomia perché insomma l'hai detto già altre volte ecco quanta autonomia lasci ci sembra ci sembra tanta ma quanta ne lasci anche nel gioco nella gara e cosa invece condividi con loro anche dopo la partita come informazione e quant'altro io voglio cominciare con il rapporto contro me e i giocatori perché è importante secondo me io sono un po' differente di molti altri attori su livello dei rapporti io ho sempre detto io voglio sapere tutto dei miei giocatori io ho pensato un esempio io so che la bambina di Piotr Novakovsky ha compleanno al 12 giugno vuol dire Piotr Novakovsky non ha mai giocato con me al 12 giugno lui è sempre libero al 12 giugno perché io so che è importante per lui di essere alla casa e fare la festa per la bambina è importante Wojtacek ha fatto lo stesso anno in World League lui ha giocato venerdì sabato ma domenica lui è rientrato alla casa per fare il primo compleanno del suo bambino del suo bambino in Polonia era un po' in shock perché lui non ha giocato ma lui era con la famiglia per me il rapporto comincia sul livello della famiglia io ho sempre un documento con tutti i nomi di donne con tutti mi piace molto che i giocatori non cambiano troppe volte le donne con tutti i nomi dei bambini con tutte le informazioni è sempre la prima cosa è sapere come la situazione è in generale di un giocatore vuol dire io ho bisogno di un po' di tempo per esempio secondo me io ho parlato come giocatore in Perugia in Perugia io non ho avuto suffisamente di tempo per fare io ho un buon rapporto come giocatore ma era troppo sul livello di pallavolo e mi piace avere un buon rapporto con i giocatori su tutti i livelli è qualcosa che prende molto di tempo ma che dà un contatto più forte per andare alla prossima una cosa che i doni i doni dei giocatori sono importanti secondo me i doni molte volte molte volte i doni sono più importanti che i giocatori perché sempre io parlo con i giocatori il giocatore va alla casa e alla casa è la donna a chi parla allora è importante per me di parlare sì è possibile in Polonia tutti i doni sono sempre invitati per andare in il campo di training in momento di training in tutti i corsi i doni e i bambini sono possibili di essere in World League noi abbiamo bisogno sempre di 6 7 8 camere no troppo 4 o 5 camere più per tutte le donne tutti sono lì e per me è interessante per me è la possibilità di dare le mie idee alle donne e la famiglia di un giocatore e dopo è più facile di parlare con un giocatore e dopo è più facile di dare autonomia perché autonomia è importante io non ho mai detto a un giocatore che un elemento è obbligato se un giocatore viene con me e mi dice che oggi non mi sento non mi sente bene io dico direttamente sta alla casa per me è possibile che i giocatori hanno un un giorno dove lui non si sente come fare un elemento è possibile se lui ha sempre il sentimento di non fare un elemento è un problema ma anche è una quando io parlo con con la società è sempre come è possibile dare la motivazione io non do la motivazione la motivazione deve essere di un giocatore e per me è di usare la motivazione ma dare la motivazione io non so come fare vuol dire che i giocatori vengono e prendono l'autonomia in Perugia era perché la stagione è troppo corta con le partite è difficile ma ho fatto molte volte io faccio un gruppo di giocatori non il più importante ma un gruppo di leader o un gruppo di tre quattro giocatori che prendono le decisioni e il programma del mese io faccio sempre insieme con loro noi parliamo insieme cosa è possibile in Perugia noi abbiamo il problema della palazzetta che non ha sempre il libro noi abbiamo avuto il problema di giocare più o meno tutta settimana due partite ma anche anche in una situazione che è difficile io parlo sempre con i giocatori per fare il programma del mese in situazioni è perfetto per esempio in Friedrichshaven il palazzetto era sempre libero per la squadra per me è possibile dare la responsabilità completamente alla squadra anche sul livello individuale un giocatore può decidere quando lui lui individuale viene per l'alimento e io sono pronto per dare l'alimento e io non ho mai visto un giocatore che ha preso come dire che ha detto ah io ho preso io prendo un vacanza di un settimana io non ho mai visto i giocatori sono i professionalisti loro prendono il migliore allora mi piace dare molto l'autonomia anche in Polonia squadra nazionale il programma non è fatto per me è fatto in Polonia ho un gruppo di 3-4 giocatori e loro fanno il programma e dopo parliamo con me ok facciamo così 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 parliamo lunedì mattina così lunedì dopo pomeriggio una volta cura che è venuto con me ha detto vital il mio compleanno il compleanno numero 30 30 30 era importante era importante era importante per lui allora noi abbiamo cambiato il programma per una settimana per fare una festa una festa in Polonia una festa in Polonia sono una festa grande è una cosa per me importante che squadra e giocatori hanno un'influenza sul programma cosa condividi con loro tutto mi piace fuori fuori il terreno mi piace che i giocatori sanno tutto anche se ho un problema con la mia moglie io parlo con i giocatori per dire fattenzione io ho un problema con la mia moglie la mia come il mio sentimento non è buono oggi mi piace mi ricordo molte volte che ho detto fattenzione io sono non sono non sono non sono felice oggi perché perché così 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 è passato qualcosa ha niente da fare con voi perché un giocatore sente direttamente se il natore non è contento e loro pensano direttamente wow cose cose quale errore ho fatto oggi è importante per me di sempre condividere tutto con i giocatori su livello di pallavolo per le partite ancora è più difficile perché noi allenatori noi abbiamo troppo di informazioni e dare e dare tutto a un giocatore secondo me io non qualche giocatore sono capace di prendere molte informazioni ma in generale non mi piace dare troppo tre quattro elementi per un giocatore sono semplicemente ok chiaro chiaro come dividi i compiti con il tuo staff in allenamento in partita e cosa ne pensi del peer to peer cioè il peer learning cioè il fatto di imparare tra giocatori di parlare tra giocatori e scambiarsi informazioni tra giocatori io sull'il peer to peer non mi piace troppo tu sai il libro Simon Sinek Leaders Eat Last come i leaders mangiano l'ultimo è un po' l'idea è che dare l'esempio è il più importante e è un po' lo stesso con il peer to peer per me perché è Polonia campionato del mondo perché i due giocatori più importanti danno sempre l'esempio Kubiak e Kurek sono giocatori io non ho mai visto due giocatori che sono così concentrati sul loro lavoro e lavorano sempre sempre corretto è per me per me il più importante non mi piace con il giocatore comincia a parlare troppo con l'altro giocatore perché è pericoloso è pericoloso che comincia un parla con l'altro da un critica e l'altro ricomincia non mi piace troppo io voglio che mi piace più o dare l'esempio o i giocatori vengono con me se loro hanno visto un problema e parlano mi piace ma il peer to peer dove un giocatore sicuramente sul livello di tecnico parlare troppo con l'altro giocatore non mi piace sul livello di latitudine è possibile è sempre lo stesso come detto per me è qualcosa del leader della squadra i leader della squadra sono capaci hanno la possibilità di parlare con l'altro giocatore ma non troppo peer to peer io ho detto io ho parlato già sul livello di compiti con il mio staff in alimento io non faccio niente gli altri lavorano è più facile per me come ho detto mi piace di avere un scout che fa l'alimento la mattina io lavoro molto con l'iPad per dare il feedback direttamente con immagini in la partita in la partita noi una cosa comincia generale secondo me un buon leader è un leader che può dare la responsabilità a un'altra persona in l'idea forse un'utopia io non faccio niente non prendo nessuna decisione per esempio in livello di power training l'alimento fisico io lavoro con un altro allenatore belgio e con lui la mia fiducia è 100% vuol dire che lui fa sempre la sua cosa io voglio fare lo stesso su tutti i livelli nella partita un dei due assistenti lavora per esempio sul muro dell'altra squadra è per lui io non devo parlare è per lui di parlare un altro allenatore lavora sul il nostro attacco il nostro palettatore per esempio è per lui di dare tutte le informazioni e io devo avere la fiducia completamente a lui per me è interessante dare elementi non troppo grandi ma piccole parti del mio lavoro a un altro allenatore secondo me Roberto Santilli è lì quando lui è venuto io ho detto a lui prenda qualcosa e Roberto ha appreso di lavorare con i palettatori e secondo me Roberto dimmi ma in una campionata del mondo tu hai tu hai sempre parlato con Campa e sempre hai fatto il gioco in una gioco parlato con lui e non ha funzionato perfetto perché noi avevamo solo vinto il medaglio di bronzo ma non era male vuol dire che lavorare è dare un po' di responsabilità non troppo ma è la responsabilità completa per un'altra persona ok Roberto scusa Rocco gli volevo chiedere una cosa perché lui ha sempre parlato di leader al plurale quindi non di un leader ma di più leader è casuale o proprio cerchi questa costruzione con perché mi viene in mente ne parleremo giovedì della teoria delle quattro colonne del del Barcellona no è un caso che stai parlando di leader al plurale o proprio cerchi più leader all'interno della squadra per me è importante che tutti i giocatori sanno loro posizioni nella squadra io non parlo di posizioni sul terreno ma loro posizioni io ho un sistema all'inizio per dove la squadra prende la decisione chi è il leader chi è mezzo chi è un po' fuori la squadra prende la decisione dove dove sono ogni giocatore dove sono tutti i giocatori e nella squadra dopo è fatto io comincio a lavorare come ho detto è sempre la squadra chi prende la decisione e dopo io comincio a lavorare con le persone per dare l'esempio ho fatto in Perugia e è chiaro che i leader in Perugia sono Atanjesevic e Podraskanin i due sono i più importanti per la squadra allora per me è importante lavorare con loro ho avuto qualche giocatore io do un esempio Plotnetsky lui era lontano dal centro della squadra all'inizio perché una spiegazione che lui non ha parlato italiano lui ha giocato in Monza ma non non parlare io ho fatto molto di focus comincio a parlare l'italiano perché lui è una persona fantastico e dopo lui è entrato più nella squadra ma per me lavorare con tutte le persone devono sapere la posizione è interessante su due livelli anche per una persona è interessante se una persona trova che lui è importante e la squadra dice che lui non è importante è interessante perché lui deve fare un movimento o lui deve accettare ma è interessante per vedere allora per me la posizione di tutti giocatori nella squadra è incredibile e importante è qualcosa che per me è più importante per fare una squadra perché tutti sanno la posizione chi è leader chi è un po' leader chi è leader sul terreno chi è leader in spogliatore è sempre un po' differente e per me è facile chi è leader per esempio Zoukowski in Perugia per me era incredibile importante sull'anamento perché lui lui lavora lavora duro sull'anamento e qualche giorno lui non ha lavorato bene dopo io parto con lui perché lui non ha fatto il suo ruolo di leader che era sull'anamento dopo lui ha detto ok è un piccolo ruolo da me lui ha avuto un problema non lo so alla casa non mi ricordo è possibile è possibile che un giocatore ha uno o due giorni che non funziona bene ma per me il gruppo e la posizione di tutti i giocatori è cruciale ok stop passiamo un po' alla preparazione della partita ecco come la prepari come la gestisci e poi anche il post partita come l'affronti se l'affronti subito il giorno dopo dopo due giorni con i giocatori preparare la partita mi piace vedere i video mi piace molto vedere sempre 4-5 partiti di un'altra squadra i statistici i numeri sono importanti io insomma tutti i squadri hanno i numeri allora informazioni per tutta la squadra per me è sempre cercare qualcosa di differente allora mi piace molto vedere i video per avere altre immagini della squadra che noi giochiamo contro per dare informazioni ai giocatori è limitato vuol dire in sessioni di 30 40 minuti è maximale dove io faccio sempre un piccolo libro e dà le informazioni ai giocatori ma veloci e non troppo il libro ha molte informazioni ma io voglio sempre che ogni giocatore cerca solo informazioni che sono importanti per lui avanti partito io parlo un po' con le centrale i palleggiatori come giocare ma come ho detto se un giocatore ha 3-4 cose a pensare è sufficientemente e dopo la partita è lo stesso non mi piace fare un meeting per un gruppo ma fare un come ho detto un un contatto informale per parlare un po' della partita non sempre non sempre con tutti i giocatori ma sempre 5-10 minuti parlare un po' qualche volta io dico tu devi vedere qualcosa ma non troppo per me quando io ero giocatore non mi è piaciuto un allenatore che vuole dare informazioni di ore e ore allora con me giocatore in una settimana la preparazione della partita è 40 minuti 5 minuti 10 minuti individuali dopo la partita 5-10 qualche volta 15 minuti è tutto se il giocatore vuole vedere immagini non è un problema per me ma io non voglio dare troppo è un po' è mia idea ok c'è ancora Roberto ci sei Roberto sì sì certo ci sono ci sono io volevo dire volevo dire una cosa insomma Vital è molto anticonformista questo lo sapevamo io l'avevo anche avvisato di fronte qualcuno che diceva delle cose molto diverse da quello che in Italia normalmente si pensa e questo è Vital e bisogna prenderlo così com'è allora io ho una domanda specifica ce l'ho per lui e siccome abbiamo parlato molto dell'Italia e lui ha fatto questa prima esperienza io volevo sapere qual è stata la cosa più difficile per lui in Italia al primo anno è facile Italia ha una cultura che è più o meno fatta in ogni squadra per i giocatori i giocatori che giocano 6, 7, 8 anni in Italia per loro cambiare uscire dalla posizione del comfort è difficile e è sempre dipende un po' le caratteristiche di un giocatore qualche giocatore non ha un problema di cambiare ma se tu hai un giocatore di più di 30 anni non è facile di prendere un altro sistema era più difficile per me all'inizio di cercare anche per me io non di cercare una strada che fa l'accomodazione tra il sistema d'Italia e il mio per me è difficile era più difficile che ho pensato anche senza preparazione io sono venuto 4-5 giorni e secondo me i primi due mesi ho avuto bisogno per adattare un po' all'Italia allora l'inizio era difficile difficile per i giocatori e secondo i staff noi non abbiamo parlato di staff ma secondo me l'Italia è famosa per avere un staff grande io ho sempre lavorato con 3-4-5 persone in Polonia un po' più in Perugia il gruppo di staff è chiaramente più grande era un po' difficile per me di trovare un bilanzio sul livello di staff non sono contento da le mie cose che ho fatto perché non ho trovato semplicemente i contatti con il staff il congiettore ha funzionato il staff io devo fare meglio allora un po' la cultura italiana anche se Roberto Santilli Roberto Piazzi Brogioni Bagnoli io ho lavorato con molti allenatori andare in Italia è ancora più difficile è un paese molto conservatore l'Italia no ma io ho sentito la parola patria la patria di Palavolo è normale è normale che loro non vogliono cambiare troppo veloce ho un po' più di bisogno in un po' di tempo in altri paesi con Polonia era un po' più facile io ho saputo in avanti che è una sfida ma era ancora più grande la sfida che ho pensato ok ne ero sicuro un'altra cosa volevo chiedere a Vital perché lui poi quando ha iniziato ha esordito dicendo che sì io quando l'ho conosciuto tanti anni fa diceva che lui era un allenatore poco esperto aveva poca esperienza adesso è campione del mondo comincia la lezione dicendo la stessa cosa io ho poca esperienza e quindi e quindi così allora io ti voglio chiedere siccome so che sei uno che legge molto a tutte le ore del giorno della notte data la tua poca esperienza nella pallavolo quanto è stato importante invece nella tua formazione quello che tu hai acquisito leggendo non di pallavolo ma leggendo di argomenti diversi quanto questa cosa ti ha aiutato a formare la tua il tuo sistema diciamo perché questa è troppo difficile per me Roberto per capire è troppo difficile cosa tu vuoi sapere dico dico sempre che tu hai la tua sfera di pallavolo la tua conoscenza di pallavolo poi in realtà sei una persona che legge molto moltissimo allora quanto quello che tu hai letto di cose che non sono di pallavolo ha influito nella tua formazione personale di allenatore molto molto è molto perché io sono cominciato mi ricordo il Drive il libro Drive di Daniel Pink non lo so come come devi traduire Drive 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 e mi ricordo che ha fatto qualcosa che mi è interessato ma oggi io sono io io leggo oggi Bring the Noise da Jürgen Klopp dal natore di calcio e io trovo sempre perché in pallavolo non abbiamo sufficientemente di libri per fare allora io ho sempre trovato tutto in altri sport come ho detto 15 anni fa era quando io sono cominciato come natore noi abbiamo lavorato con il compact disc internet non ha funzionato secondo me allora trovare informazione di pallavolo era difficile per una persona che vive in Belgio io non ho mai visto partite non ho molto visto partite in Italia allora ho trovato informazione in altri sport era più facile il basketball oggi è Michael Jordan con Last Dance mi ho sempre seguito Michael Jordan perché le informazioni del basketball erano più forti più grandi di pallavolo allora ma anche io ho fatto gli studi con ingegneri commerciali tutti che ho scritto sul leadership in Stati Uniti io ho sempre letto e mi ha dato secondo me molto mi ha dato come lavorare anche oggi leggo molto perché la generazione oggi è differente che la generazione dieci anni fa e una sfida per un allenatore è sempre di adattare e trovare un sistema che è meglio per lavorare con i giocatori come fare la recezione come fare il palleggio secondo me molti allenatori sanno e è qualche volta un po' differente ma io non so il migliore ma lavorare con un gruppo nella nostra società di oggi anche nel sistema di corona oggi è la sfida più grande per me secondo me è tempo per mangiare per voi per me è più o meno tempo per andare a dormire per voi è tempo per mangiare posso fare l'ultima domanda ok allora mi sembra di aver capito che hai ascoltato Karch Chirali Bernardinho siccome mi sembra che sei una mente molto aperta che cosa hai imparato da questi allenatori perché tu prima hai detto loro sono grandissimi io non sono niente sono solo il campione del mondo vuol dire che la mia storia è limitata ho capito una persona parla di ultimi sette anni io so tutto oggi ho pensato secondo me quanti partiti ho visto l'ultimo anno e ho cominciato secondo me ho visto più o meno sei centi partiti l'ultimo anno di pallavolo vuol dire che l'ultimo anno io so tutto l'ultimo sette anni ma avanti di otto anni io so niente è una cosa due cose più interessante il più interessante di Bernardo era la spiegazione di Bernardo sul posizione sei in la finale olimpica dove Lanza posizione quattro Zaitsev posizione due Birella primo tempo battuta di Wallace in float lui ha parlato secondo me dieci minuti su un'azione e in realtà è una decisione di cinque secondi è qualcosa che passa in cinque secondi un allenatore parla con Wallace Wallace far float è fatto in cinque secondi è interessante vuol dire sono così molti elementi che è necessario parlare dieci minuti per spiegare cinque secondi e è una cosa che è interessante per noi allenatori io non sono capaci di vedere e sapere tutta una partita quando io rivedo una partita sempre io vedo cose nuove oh non ho visto perché sono così molti elementi per noi di seguire molte volte un giocatore mi fa la richiesta la mia posizione in difesa è buona? per me è impossibile sapere perché io non ho visto io sono un po' famoso di parlare con l'arbitro di fare il challenge giocatore per gli autori elementi sono così molti non è facile di prendere una decisione è una cosa che dici ok io so che non è facile di avere tutto nella testa con Karch Karch era la è un po' come io sono un po' più chaos chaotic e Karch Karch era per me un po' più l'organizzazione ho pensato qualche volta wow spero che Karch non sento oggi perché io e la mia canzone è un po' differente lui ha fatto sempre parte 1 2 3 e per me mi piace di fare sempre qualcosa differente io so che la differenza è lì ma mi piace io devo essere che io ho sempre detto io sono cominciato 15 anni fa come un autore e io faccio lo stesso e se una giornata è possibile perdere è finito dopo è finito ma io faccio sempre lo stesso che è un po' differente ma è interessante Karch è chiaro che gli Stati Uniti è scientifico e con un'idea corretta e io sono un po' più sentimento seguire nel sentimento è un po' differente ok va a mangiare tutti mangerai qualcosa è stata è stata anche oggi una serata straordinaria è un personaggio straordinario bisogna bisogna dirlo poi ognuno può condividere ma sicuramente è la serata straordinaria Rocco sì ci siamo sentiti in questi giorni con Vitale avevo capito che insomma era una persona veramente eccellente una persona che trasmette tantissimo io lo ringrazio veramente personalmente per tutto quello che oggi ci ha trasmesso credo che noi tutti allenatori questa sera siamo un po' arricchiti abbiamo delle idee in più che magari vorremmo sviluppare sicuramente svilupperemo appena insomma finirà questo periodo grazie di cuore appuntamento a tutti insomma per le prossime per i prossimi incontri valutiamo anche Roberto che ha stato lui fa niente lui fa niente come sempre grazie Roberto è la cosa più difficile Vita ascoltare è la cosa più difficile grazie Roberto bentornato in Italia Roberto che sei arrivato lui è tornato sì è meglio che lui sta in Asia o non lo so dove Australia lui è lontano da Italia ciao ragazzi grazie di tutto grazie a te grazie a te appuntamento a tutti per le prossime incontri allora buona serata ciao ciao